Questa è Milano, ma la vicenda che vogliamo narrarvi potrebbe essere accaduta in una qualsiasi altra grande città. Giovanni, Lidia, Valentina. Tre esseri che si vogliono bene ciascuno a modo suo. Ed è qui che nasce, prende forma, ingigantisce, esplode il dramma che trascina i protagonisti in un clima di ossessionante tensione. Sollit. Grazie a tutti. Grazie a tutti.